Bologna che gestisce con Mannion, il blocco di Theodosic accelera, Nico Mannion! La schiacciata! Eccessivo quarto parziale, Mannion attende l'uscita di Hackett che poi si fa vedere ma Mannion va su con la difesa! Mannion sul meno 7 possesso per la Virtus, attacca Kruslin, tripla in step pack! Berg mette palla per terra fuori da Mannion, Jaité, blocco, Mannion fino in fondo e appoggia il vetro! Mannion per Lundberg, di nuovo Mannion attacca in uno contro uno, fino in fondo, l'assist per Schenghe. Errore, uno su due Schengheia, Cortinier fuori per Mannion, bomba! Classico garbage time adesso. Mannion alzata per Miki! Per Jaité, consegnato ancora per Nico Mannion, Jaité taglia, poi torna su per bloccare Mannion! E' una zona di Bologna, la vedremo meglio, magari la prossima azione ad attacco, intanto Treviso sbaglia il tiro e Mannion non sbaglia! La risposta a un buon tiro in transizione di Mannion, la partita sta salendo di torno. Ancora Mannion ci riprova! Per ricucire in parte lo strappo, pressione di Lockett su Mannion, che lo bate, Valferro, Flaccadori! Ruzziere in difesa su Mannion, con il pubblico dell'Union's Dome particolarmente dentro alla partita, penetrazione di Mannion, servito Camara! Secondi, mette palla per terra contro Mitrulonghe, poi Akhet attacca Mannion, ancora Mannion, step laterale, tripla per aria! Virtus Scariolo ha chiamato il time out per quello, ha rimesso in campo Teodosic, Mannion e Bellinelli. Contemporaneamente Mannion va su. Rattoppiato, gestisce lui questo possesso, 4 secondi, 3 secondi, step back, bomba di Mannion, che è la fine! La quarta palla recuperata, in questo terzo quarto, i palleggi di Mannion, che poi si arresta con le mani in faccia di Smith! Mannion, alzata, ultime! Rimbazza, applaudi comunque, può ancora stare un buon tiro, questa volta lui doveva prendere lo fatto dell'otto, Mannion in corso importante, avversario! Mitrulonghe ha la possibilità di fare un altro mini break con Mannion, edita la stoppata! Bacco, consegnato per Mannion, ancora per Bacco che va da fondo! Poi Rims, poi Mannion ribatta, Mickey per Lundberg, 5 secondi, Mannion in ritmo! L'esperienza di Pippo Ricci a lavorare su quel piedeperno per andare a fare due punti! La squadra è troppo fuori per Schenghelia, per Mannion che va su, si appoggia il tabellone! Io vedo più voglia dentro la squadra di Napoli adesso! Mannion riesce! Grazie! 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 Grazie!